Chiamali ufficiali. Non mi si parli mai più di ufficiali. Scapparono i primi, i bellimbusti avevano il vestito borghese bello e pronto e stirato nelle pensioni. Pensare a tutto l'onore e il rispetto che si è dovuto portargli. Pensare che per tre anni ci hanno fatto ingoiare merda, una bella porzione ogni giorno. Lascia che abbia un figlio e la patria venga a chiedermelo soltanto. Ma voi che fate, gli eroi o i fessi? I fessi fanno. Il comando non ci ha avvisati dell'annistizio. Si sono completamente dimenticati di noi. Vedi? Lì i signori ufficiali. Loro sono che aspettate a mollare tutto e a puntare a casa vostra. Ma i tedeschi non potevate proprio resistere? Questo non comprendiamo. Se erano venti, hai detto, farsi ammazzare per chi? Per il re? O per il principe? O per Badoglio? Dovunque stiano meglio di noi i poveri cristi stanno. E poi nemmeno l'ordine hanno saputo darci. Di ordini ne è arrivato un fottio. Ma uno diverso dall'altro. O contrario. Resistere ai tedeschi. Non sparate sui tedeschi. Non lasciarsi disarmare dai tedeschi. Uccidete i tedeschi. Autodisarmarsi. Non cedere le armi. Tutti ci serravamo la testa tra i pugni perché non ci scoppiasse.